Seconda giornata di Serie A Femmine Team di ritorno allo stadio Ferruccio di Seregno, va in scena como Fiorentina. Arrivata quest'anno dalla Sassuolo Parisi, un grande ritorno, ritorno dolce e romantico, lei che qui ha lasciato il cuore. Attenzione che ne approfitta subito la Fiorentina con il sinistro e arriva dopo soli 20 secondi il vantaggio della Fiorentina con Kayan. Parte subito in discesa la gara della Fiorentina con Kayan che realizza il suo quarto gol in questo campionato. Un errore di Rizzoli in uscita, Bocchete allarga per Kayan che di prima intenzione con il mancino trova l'angolino dove non può arrivare Corenciova. Fiorentina già in avanti. Come nella tre quarti, il vero Bocchete è imprescindibile per il gioco della Fiorentina. In difesa invece la Viola è guidata dall'esperienza di Agard. Ancora Fiorentina, altro destro volante ed è 2-0 Fiorentina dopo solo i quattro minuti. Ha raddoppiato. Miriallongo dopo quattro minuti. Mettono il punto esclamativo sul momentaneo vantaggio della Fiorentina. Destro volante di Miriallongo ad anticipare l'uscita di Corenciova. Ancora Carlena sa prova a mettere ordine. Diluzio dall'altra parte a cercare lo spunto per Picchi che trova il pallone. Prolunga per Pavan, anzi Beccari. Beccari con il destro! Con il piede! Si oppone alla grande Schrofenegger. K.O. Sonoro subito contro il Milan. Attenzione a Lungo che attacca la profondità. Prova ad entrare in aria. Cross morbido. Poi arriva Bocchete! Corenciova si oppone alla conclusione potente ma centrale di Bocchete. Burini converge e allarga e apre al centro in maniera sanguinosa perché regala la palla a Jasnotir che serve in profondità Lungo che va con il sinistro. E arriva il gol del 3-0 della Fiorentina con la doppietta di Mirian Lungo al minuto numero 58. Palla verticale e veloce per l'ex attaccante del Milan che entra in aria e con il sinistro Fredda per la terza volta. Rivediamo Jasnotir. Verticale e veloce per Lungo che supera Rizzone. Ilai non interviene e con il sinistro trova l'angolino per il tris della Fiorentina. E doppietta di Lungo. Beccari che gioca bene questo pallone per l'avanzata di Joyce Burini. Fino in fondo Burini. Guarda la porta, pensa al tiro, poi vuole il fondo, va col cross morbido. Dentro per Carlenas. E arriva il gol dell'1-3 dell'Alcomo con Carlenas sull'assist al bacio di Burini. Che ha fatto tutto bene sulla sinistra, ha attaccato il fondo. Inizialmente ha pensato alla conclusione. Ha messo dentro un pallone solo da spingere in rete. dolce, chirurgico per la testa di Carlenas. Chieda due passi a porta sguarnita. Non può che non segnare. Ilai. Bail. Ottima la palla in verticale per Beccari. Beccari entra in aria. Beccari con il destro! E arriva un altro gol magico di Beccari. Dopo la Juve punisce anche la Fiorentina. al minuto numero 86. Beccari. Como due, Fiorentina tre. Rivediamo il gol di Beccari servita da Kubassova. Palla che arriva sul piede destro dell'attaccante numero 9. Prima che arrivi l'anticipo di Tortelli riesce a chiudere con il destro sul palo lontano. della Fuente invece l'arbitro fischia un fallo e danni di Lai. Non c'è più tempo. Finisce qua una partita infinita. La Fiorentina espugna lo stadio Ferruccio di Seregno che cancella il K.O. Sonoro subito contro il Milan all'ultimo turno.